La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Desiree Manca ha presentato un'interrogazione sul blocco degli interventi nell'ambulatorio di oculistica dell'ospedale CTO di Iglesias. Da quando il primario dell'ambulatorio di oculistica del CTO è andato in pensione, scrive nell'interrogazione Desiree Manca, sono purtroppo terminate le prestazioni di eccellenza erogate dalla sua equip. Nessuna figura che potesse sostituirlo mantenendo i livelli di eccellenza raggiunti è stata infatti reclutata, nonostante il pensionamento del primario fosse noto da circa un anno, da quando cioè il medico presentò domanda. I cittadini del sulciglesiente, non solo, sono stati così privati, ha sottolineato Desiree Manca, di un importante servizio erogato in una struttura diventata negli anni un'eccellenza della sanità in Sardegna. L'ambulatorio si occupa prevalentemente di interventi relativi alla cataratta e lo scorso anno ne sono stati eseguiti circa 800, ha aggiunto Desiree Manca, mentre tra il mese di gennaio e il mese di marzo di quest'anno sono stati circa 230 gli interventi eseguiti da un'unica persona che da sola riusciva a garantire un numero elevato di interventi settimanali, in alcuni casi fino a 25. Le liste d'attesa per questo genere di interventi intanto continuano a crescere ogni giorno. Una realtà come quella del sulciglesiente, ha concluso Desiree Manca, non può essere privata dell'ennesimo servizio sanitario fondamentale per il territorio. Pertanto, anche se fuori tempo massimo, l'assessore Mario Niedu ha il dovere di attivarsi per risolvere con urgenza questa situazione.